buongiorno a tutti finalmente parliamo della lubitel 166 universal che ho preso qualche tempo fa sicuramente avete visto già qualche immagine su instagram mi raccomando seguitemi su instagram c'è il link in descrizione al mio profilo ma questa macchina è davvero incredibile adesso ve la faccio vedere bene da vicino è non vi preoccupate però nel frattempo vi volevo dire che l'ho provata con una pellicola nuova diciamo così della kodak la kodak gold 200 formato 120 cioè medio formato perché diciamo così nuova perché in realtà è la gold 200 che è sempre esistita ma forse hanno cambiato a un certo punto anni fa comunque è quella che esiste in formato 35 mm nel rullino classico ma fatta anche in formato 120 ovviamente a un prezzo competitivo rispetto a altre pellicole medio formato come può essere la porta 400 o la porta 160 o addirittura la hectare 100 parliamo sempre di colore ovviamente che sono pellicole che costano molto di più è una pellicola che non ha la latitudine di posa della porta effettivamente che resiste a sovraesposizione di non so 34 stop esagerata ma diciamo ammesso di esporla normalmente effettivamente ha un'ottima resa bei colori io l'ho scansionato digitalizzata quindi ho quel feedback lì non l'ho stampata effettivamente però mi è sembrata buona anche una buona definizione per quanto possa aver provato ovviamente con questa macchina che ha un'ottima ottica ma ne parliamo tra poco ma comunque insomma magari andrebbe provata con macchine non so magari più con ottiche sicuramente più risolventi per vedere che risoluzione che nitidezza ma al momento per quello che ho provato io devo dire più che sufficiente poi insomma adesso vediamo vediamo le foto dunque eccola qui la lubitel 166 universal leviamo il tappo delle ottiche delle due ottiche perché appunto sono due una per inquadrare e una effettivamente per scattare e imprimere esporre la pellicola la prima che è sopra appunto serve per inquadrare e sopra ha segnati i metri per la messa a fuoco ma vediamo che cosa succede se apriamo il pozzetto eccolo qua dunque aprendo il pozzetto vedete l'immagine vedete che se giro la macchina in un verso l'immagine si sposta nell'altro verso questa è una cosa che crea varie confusioni durante l'inquadratura ma diciamo che ci si abitua l'ottica sopra è quella di ripresa vedete mentre quella sotto anche se la copro si continua a vedere appunto perché è questa sopra che riprende dunque innanzitutto vedete questo effetto muovendo la macchina un po troppo si vede il nero del bordo diciamo dell'ottica superiore e questo è diciamo un difetto di questa macchina è uno dei tanti diciamo compromessi di questa macchina che fa sì che per inquadrare bisogna tenere la macchina ben distante dall'occhio e va tenuta appunto all'altezza della vita come si usano queste macchine e a quel punto non c'è problema c'è la macchina abbastanza lontana dall'occhio diciamo all'altezza anche dell'ombelico insomma anche un pochino più su effettivamente riuscite a vedere tutta l'inquadratura e il problema è mettere a fuoco anche perché il vetro della macchina se vedete è smerigliato solo al centro e non su tutta e non su tutto quanto il vetro quindi scuola il punto in cui vedete un buon contrasto tutto per mettere a fuoco è il punto centrale dovete avvicinarvi avvicinandovi appunto perdete la possibilità di inquadrare tutto perché c'è quel diciamo tutto questo questo nero e bisogna aprire però la lentina e tramite la lentina si riesce a mettere a fuoco effettivamente l'immagine che fuori senza problemi dopodiché si richiude la lentina si fa l'inquadratura e a quel punto e a quel punto si può scattare adesso il richiudo il pozzetto a quel punto si può scattare per scattare le impostazioni della macchina quindi tempi diaframmi sono sul sull'ottica inferiore che comprende anche l'otturatore al suo interno turatore a lamelle che probabilmente si vedono adesso io la metto su un tempo b per farvi vedere questa levetta qui va a cambiare i tempi ed ecco li mettiamo su qui c'è un quindicesimo un trentesimo un sessantesimo un cento venticinquesimo un 200 cinquantesimo questi sono gli unici tempi a disposizione più la posa b appunto che lascia sempre aperto l'otturatore e poi qui c'è una levetta questa in basso che va a spostare questo ago sui diaframmi in modo qui invece molto continuo quindi avete a disposizione tutti i diaframmi da 4 e mezzo fino a f 22 se vi mettete appunto tra 8 e 5 e 6 avete i diaframmi di mezzo oppure appunto un terzo a due terzi in modo assolutamente continuo dicevo vi faccio vedere l'otturatore quindi stiamo sulla posa b per scattare bisogna caricare l'otturatore con questa levetta che si tira giù e dopo di che questa sotto va a scattare spingendola così ecco vedete che vediamo se si vede bene l'otturatore dentro adesso è aperto c'è il diaframma vediamo se ecco si vede il diaframma che si apre e si chiude spero stiate vedendo anche non sono molto sicuro e così riecco davanti l'otturatore che copre tutto quanto in più sempre sulla destra cioè dove sono la leva per caricare l'otturatore lo scatto questa qui è quella dei tempi vedete che si arriva fino a qua su perché il tempo via fino a qua giù c'è anche questo che lo scatto remoto quindi qui ci si può mettere uno dei flessibili quelli diciamo così a papà pipetta che va a scattare si invita qui dentro c'è una c'è una filettatura in modo da scattare con macchina sul cavalletto e quindi non muoverla anche se appunto ripeto il tempo più lento è comunque un quindicesimo cavalletto che ha filettatura qui sotto tutto rigorosamente in plastica la macchina appunto è tutta fatta in plastica tranne il pozzetto che è in metallo il materiale con cui ha fatto questo si sente anche dal rumore è di metallo molto molto leggero devo dire però fa il suo poi la chiusura un po complicata ho fatto così così poi tenendo giù questo si chiude questo e poi si può chiudere questo c'è anche una sorta di mirino sportivo spingendo questo qui in avanti il fronte in avanti si incastra in questo modo e secondo loro si traguarda qui dentro insomma secondo me non funziona anche bene anche perché è adesso per tirarlo fuori non mi ricordo come si fa si tira indietro un pozzetto e le lenti appunto le lenti che devo dire appunto fanno un ottimo lavoro io ho scattato quasi tutto in iperfocale o comunque con diaframmi abbastanza chiusi e fuoco verso l'infinito in modo da essere sicuro di scattare bene diciamo usare bene queste lenti effettivamente usando la usando questa lente non lenti in realtà scatta solo quella sotto usando questa lente a tutta apertura insomma ovviamente un po di compromesso c'è c'è un bellissimo bokeh circolare uno swirly bokeh e devo dire che è sufficientemente nitida al centro assolutamente sui bordi ovviamente a tutta apertura insomma c'è un po di compromesso per il resto mi sono sembrata mi è sembrata un ottica che alla fine fa il suo lavoro considerando il tipo di macchina su cui è il prezzo di questa macchina effettivamente l'ottica è più che nitida ecco considerando tutto il resto della macchina si apre con questo sblocco questa è una delle differenze tra i vari modelli delle lubitel la 166 universal all'apertura fatta in questo modo l'altra un tastino il tastino poteva essere un po facile da aprire invece con questa bisogna mettere il pallino al centro e a questo punto la macchina si apre l'altro motivo per cui si chiama universal è perché può scattare non solo in formato 6x6 ma in teoria potrebbe scattare anche in formato 4 e mezzo 6 utilizzando una maschera che si mette qua davanti mascherina che però non c'era nella macchina che ho preso io purtroppo nonostante sia una macchina tenuta veramente bene e priva di difetti almeno per quello che ho provato io purtroppo non c'era questa mascherina quindi questa macchina può scattare solamente 6x6 questo è all'interno tutto assolutamente anche qui in plastica anche se volete vedete qui c'è un po di curva che ho visto nei negativi c'è un po i negativi sul bordo erano un po curvati avevo paura che non fosse tenuta la pellicola abbastanza piatta e invece è proprio la curva di questa plastica qui che si è andata un pochino a curvare in più ho un paio di negativi rigati al centro e potrebbe essere un problema di queste che si sono incastrate qui c'è anche un po di effettivamente eccolo qui proprio al centro c'è un qualcosa un po di sporco forse potrei provare a pulirle per evitare la prossima volta questo inconveniente la pellicola si carica all'infinito senza un blocco da un fotogramma e l'altro infatti per controllare l'avanzamento della pellicola si fa affidamento a quello che è una cosa normale almeno nelle prime macchine con pellicola 120 che è questo sportellino qui questo sportellino qui dietro una volta aperto vi faccio vedere se non si vedete perché dentro non c'è niente una volta aperto vi lascia traguardare quello che c'è dietro perché le pellicole se non lo sapete le pellicole 120 medio formato hanno la pellicola e sopra la pellicola c'è una carta un pezzo di carta che serve appunto a non far prendere la luce alla pellicola da dietro e sulla carta ci sono segnati i fotogrammi il numero del fotogramma quindi voi potete volta chiusa la macchina carica della pellicola fino a sopra poi girate finché qui non vedete il numero uno a quel punto scattate la foto numero uno poi girate ancora finché non vedete il 2 vuol dire che siete al 2 ovviamente questi numeri e la distanza dei fotogrammi dipendono dal dal formato con cui state scattando per questo i numeri sulla carta sono messi in punti diversi a seconda della larghezza dell'altezza in questo caso perché il il rullo si muove in a in altezza a cui state scattando per questo è c'è questo disco qui perché essendo potendo questa macchina in teoria scattare 6 per 6 e 4 e mezzo 6 qui c'è scritto 6 per 6 e quindi qui al centro sulle carte da 120 il numero per formato quadrato per 6 per 6 il numero invece di di fotogramma se si scatta con un formato quattro e mezzo 6 eccolo qui è sarebbe da quest'altra parte quindi si gira questo disco e si va a posizionare qui e quindi su questo punto della carta si trovano il numero di fotogramma nel caso del quattro e mezzo 6 ovviamente di qua da quest'altra parte per la sulla carta ci sono anche gli altri formati quello del 6 per 7 del 6 per 9 credo che c'è una finestrella questo questo comandino qua gira una finestrella perché effettivamente una volta che avete letto il numero dovete richiudere la finestrella per evitare che della luce possa entrare e farvi danni effettivamente o un fotogramma con una striscia di luce forse è stata causata dal fatto che andando in giro questo qua mi si era mi si era spostato potrebbe essere a questo punto su questa macchina non avendo nemmeno la mascherina credo che fermerò questo questo disco con qualcosa in modo da tenerlo fermo su 6 per 6 e ovviamente però bisogna sempre aprire vedete c'è una freccetta quando quando è chiuso che mi dice che è chiuso lo ha tenuto sempre chiuso bisogna comunque stare attenti se la maneggiate la mettete nella borsa perché questo si può spostare aprire la finestrella ripeto in teoria non dovrebbe essere un problema perché c'è la carta dietro però ecco magari sotto una luce molto forte come c'è comunque il rischio che possa entrare un po di luce per cui insomma fate attenzione a tenere sempre questa chiusa quando scattate e aprirla solo per il tempo del dello spostamento magari non sotto la luce diretta del sole come vi dicevo appunto la macchina si carica con questa unica manopola che qui fa questo rumore perché dentro c'è una molla che serve ovviamente a sfilare c'è neanche un altro blocco di qua si fa così e si toglie il rocchetto questo rocchetto è quello che è anche nella pellicola su cui trovate a volta la pellicola quando la comprate ma è importante averne uno perché quando comprate appunto una nuova pellicola lo mettete qui sopra la pellicola va qua sotto quella nuova si mette qui dentro non c'è qui un blocco si infila solo qua e poi c'è questo pezzo di di metallo che lo blocca lo tiene fermo qua si gira qui si infila la punta della carta che all'inizio c'è solo carta in questa fessura si gira finché non compare una scritta start a quel punto si può chiudere e girare finché qua non compare il numero uno da questo lato c'è questo che è solo un promemoria per ricordarsi la sensibilità della pellicola che è caricata dentro è pure fatto questo devo dire male c'è nel senso che si gira molto difficilmente e poi secondo me si gira invece facilmente quando non dovrebbe la messa a fuoco vi dicevo si fa attraverso questa rotella le due le due ottiche ovviamente devono andare a fuoco insieme nel senso che voi mettete a fuoco con questa ma poi è questa che riprende quindi anche questa deve girare per farlo sono collegate da degli ingranaggi quindi quando muovo questa si va a muovere anche quella sopra e quando muovo questa sopra si va a muovere questa sotto collegate da degli ingranaggi questa cosa ho letto che può effettivamente in alcuni casi forse quando fa molto freddo non lo so ma ci sono dei casi in cui effettivamente le due le due ghiere non fanno bene contatto e quindi si sgrana quindi magari salta un dentino salta non nel senso che si rompe ma nel senso che si starano le due ottiche e non corrisponde quindi più la messa a fuoco in quel caso va ritarata peraltro vanno smontate a quel punto non so come bene ovviamente prendendo la messa a fuoco con questa dal pozzetto e magari mettendo in posa b un foglio qui di velina per per fare il controllo della messa a fuoco dell'ottica di ripresa spero non succeda perché sono un po' una rogna da mettere a posto e credo che pochi facciano questa cosa riparatori perché è una macchina che si rompe facilmente nel senso che comunque sono macchine la cui meccanica è molto molto semplice è economica è tutta in plastica appunto e si trova oggi questa intorno ai trai diciamo i 50 euro e i 70 80 euro non credo valga la pena spendere di più anche se un buon esemplare come questo che ho tenuto bene effettivamente li ho visti anche a 100 euro io sono riuscito a trovarlo intorno ai 70 spedizione compresa e credo sia stato un buon un buon prezzo considerando che appunto funziona bene un'altra cosa carina che c'è siccome appunto mettere a fuoco è un po complicato in realtà da manuale perché c'è il manuale in realtà l'ho trovato online il manuale c'è qui la possibilità di lavorare rapidamente in iperfocale qui c'è un pallino sulla messa a fuoco tra 8 e 15 lo vedete e c'è un pallino anche qui sul diaframma tra 8 e 11 mettendo entrambi quindi sul pallino sia la diaframma sia la messa a fuoco la macchina dovrebbe essere nella posizione di iperfocale in cui siete a fuoco da mi pare 4 metri a infinito poi appunto è scritto è scritto sul manuale l'ho usata un po così devo dire che poi siccome ho scannerizzato le pellicole facendo due scatti con la fuci e quindi tirandoci fuori ben 36 megapixel da fotogramma 6x6 in realtà andando a zoomare al 100 per cento sui 36 megapixel vedete che c'è insomma un po di di sfocatura cioè si vede che effettivamente l'iperfocale non è quella ottimale lavorando sul pallino quindi conviene secondo me comunque se volete fare scansioni ad alta risoluzione che non so quanto abbiano senso su questa macchina è perché comunque è ottima l'ottica ma insomma 36 megapixel sono tanti tanti però eventualmente magari si chiude un pochino di più il diaframma insomma si lavora un pochino col diaframma più chiuso e a quel punto migliora effettivamente anche la qualità ottica esiste una versione della lubitel 166 che si chiama 166 plus che è prodotta dall'attuale l'omografi ed ha un prezzo molto più alto di queste ma perché è una macchina completamente diversa il flash qui ad esempio qui c'è una slitta fredda quindi ha solo porto accessori poi in realtà il flash c'è l'uscita questa qua pc sync con il cavo va collegato al flash che può essere qui esterno nella lubitel 166 plus questo è un contatto caldo vero e la stessa cosa il mirino il mirino è completamente diverso ha un mirino a spezzamento quindi mettere a fuoco con la 166 plus è decisamente più semplice per una macchina decisamente più avanzata migliorata decisamente rispetto a queste a queste macchine insomma che erano invece macchine davvero davvero economiche in realtà lo è anche quella nel senso che costa qualche centinaio di euro ma è una macchina nuova una macchina medio formato nuova quindi effettivamente potrebbe avere il suo senso questa macchina vi permette di rallentare moltissimo e il processo fotografico rispetto alla digitale e voi direte ma perché siamo sempre qui a rallentare questo processo fotografico beh su questa veramente tante tanto lo rallentate ma loro rallentate nel senso che diventa tutto scomodo lo rallentate nel senso che dovete pensare molto di più sicuramente perché è manuale perché la messa a fuoco fa sì che dovete insomma andare a guardare bene l'inquadratura stessa vedendo la specchiata qui dentro destra sinistra non capovolta è però diciamo il destra e sinistra vengono invertite quindi la cosa migliore per questa macchina sarebbe scattare sul treppiede non da fare bene l'inquadratura e poi scattare solo quando l'immagine è già pronta questa sarebbe la cosa la cosa migliore da fare ma comunque è una macchina che potete anche chiudendo il diaframma e lavorando in iperfocale usare anche abbastanza rapidamente per scattare qua e là senza porvi tanti problemi dicevo la pellicola che ho usato è un colore sicuramente forse insomma diciamo in generale le pellicole il mondo dell'analogico piace molto di più in bianco e nero in realtà scatto anche a colori assolutamente però poi vedo che alla fine non lo so perché ma il bianco e nero mi piace di più poi diciamo me lo posso anche sviluppare da solo come avete visto fatto ultimamente che insomma non guasta è una parte in più di lavoro da fare che però ci piace insomma per dedicarci no di più ancora di più alla fotografia in prima persona è un'ottima scelta secondo me per iniziare con un medio formato non so se la macchina che sceglierei per iniziare con l'analogico perché ha un costo di esercizio abbastanza importante cioè la macchina la trovate come dicevo a un prezzo ragionevole ma le pellicole insomma costicchiano perché comunque un rulo da 120 lo andate a pagare bianco e nero state sui 7 euro così su un colore arrivate a 10 euro per 12 scatti insomma comincia a diventare importante no come spesa quindi forse non inizierei il mondo della fotografia analogica con questa però è una ottima evoluzione per fare qualcosina in più no qualcosina di più complesso non voglio dire più complicato però qualcosa di più complesso nel mondo della fotografia analogica passando magari da un 35 millimetri a questa macchina qua se vi è piaciuto questo video mettete un like se volete rimanere aggiornati anche per sapere se scatterò una pellicola in bianco e nero con questa e vederne i risultati e anche perché forse c'è un imballo con una nuova macchina biottica di quelle non andiamo oltre però insomma se volete rimanere aggiornati mi raccomando iscrivetevi al canale prima del tastino iscriviti e magari anche la campanellina attivate tutte le notifiche così rimanete aggiornati e mi seguite ovviamente nei commenti ditemi che cosa ne pensate se la conoscete se la conoscete bene se vi fa schifo perché è tutta plastica e non volete saperne di macchine di questo tipo se ne desiderate una e per qualsiasi domanda ovviamente chiedete pure vi rispondo molto volentieri grazie mille di avermi ascoltato come sempre buona fotografia alla prossima ciao ciao ciao